Ciao ragazzi, benvenuti signori, risalve, come state, signori, io non so, io non so neanche se è tornata la linea ragazzi, il tecnico non è venuto a cambiare in modem, io sono un attimo basito, sono un attimo in carta leggermente, voglio questi ma mi hanno messo in blocco, perché non si spiega, che mocio la gigabit, non si spiega, io non mi spiego adesso, come mai adesso la linea funziona, perché adesso funziona? Cioè quello mi ha chiamato e ha detto domani mattina vengo a montare il modem, voglio non è possibile, fine di dieci minuti fa non c'era, però sai come me ne sono accorto? Perché ho comprato, vabbè, ho comprato diciamo sempre aggiornamenti per lo streaming, signori, il maestro, vabbè, nel frattempo poi ragiona, no, pensa, ho comprato questo qua, questo harddisk da 8 terabyte, signori, per mettere i giochi sopra, ho investito questo piccolo 370 euro di HD, l'ho montato, ho disinstallato tutti i giochi, ho cancellato tutti i giochi, ho detto ok, mo provo a installare un gioco, ma secondo me quando lo scarica? E poi io vedevo che saliva a 20, a 30, 40, bello e buono 120, ho detto ma com'è? Tenga la linea, non è possibile che sto scarico a 120 mega, vado a fare lo speed test e c'è la connessione, mo adesso voi mi spiegate? Me mi hanno rovinato due giorni di maratona, per colpa della... Io mo che vino tecnico, Shagit, alle 6 ha detto che doveva venire, io resto è live, e ci dico, sentite? Ve lo faccio cambiare lo stesso, lo facciamo, io lo facciamo cambiare perché è arrivato a sto punto, ve lo facciamo cambiare, no? Se non che frega a me, se... io ho attaccato la... 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 l'ho attaccato la maratona, ma perché? L'ho attaccato così, se... perché? Onestamente, mi sembra... non volevo... infatti appena mi è arrivato, appena mi è arrivata la connessione, allora... Il modo migliore per far accelerare i tecnici è dire la classica frase, mi dispiace ma valuterò altri operatori, in 5 minuti risolvono. Ma... anche perché io ho detto, guarda che io sono cliente... eeeh... pago tutte le bollette, non ho mai pagato, non ho pagato nulla, non ho mai pagato tutto. Cioè, io... mi chiama il tecnico, gli arrivi nel tecnico, viene. Ah, sto detto là, piglio il cavo, lo infila. Ah, ma... ah, ma allora si deve cambiare in mode. Io lo guardo così, un attimo, un attimo, agito... Non ho mai chiesto, non ho mai chiesto, studiato. O lo guardo... lui mi guarda, io guarda... Dico... no... no... Onestamente, non si deve cambiare. Quindi... adesso io ho attaccato la live, onestamente, perché mi sono rotto il... perché... Purto non so fare niente, ma non buca... Io voglio essere in maratona! Ah! Eh, allora... Eeeh... e quindi... E quindi... E quindi... Un attimo che trovo il telecomando... Maestro, sto arrivando con il nuovo modem minore di 3. Ah, lo guarda sta. Maestro, sto arrivando con il nuovo modem. Ma lo sta al suo modem, dove sta? Vai giù, io... Io vi faccio lo speed test qua davanti a voi. Cioè... Vai giù... Speed test in live! Guardate! Non è assolutamente possibile! Non è possibile! Ora voi mi dite com'è possibile che io c'ho la linea! Vai giù, c'è qualcosa sotto, secondo me? C'è qualcosa sotto? Cioè... Secondo me... C'è qualcosa sotto, secondo me? C'è qualcosa sotto? Non è possibile... Non è possibile questo telecomando. O... Loro... Da... Lì... Hanno una cosa che possono mettere un blocco? Finti guasti? Vai giù perché non si spiega! Non si spiega, ragazzi! Non si spiega! Voi avete capito che c***o di macagna c'è sotto? Vai giù! Voi l'avete capito o no? No, non è la zona, ragazzi! Perché ieri è venuto il tecnico e ha detto Tu hai una buona connettività! Ha detto Tu c'hai la due... La duecent... Duecent... Due mila mega che arrivano qua! Quindi già mi arrivano i due mila mega! È qualcosa nel modem! Infatti io adesso che faccio? Adesso richiedo Il modem Richiedo Il mio modem! Perché metterò il mio modem adesso! Richiederò la cosa... È un coso che ti vengono a montare vicino alla fibra! Metterò il mio modem! E così si può che io la linea ce l'ho! E loro per legge Me lo devono dare! Capito? Magno, ma non è possibile! Io mi spiego adesso come c'ho la fibra! Ma non è possibile! Sono stato due giorni! Due giorni a combattere! Con gli operatori! Due giorni di palle così! A casa! A casa! Grazie.